La nuova cremonese si svela al suo pubblico. L'appuntamento è per domenica 25 agosto allo Stadio Zini, quando alle ore 18 la squadra verrà presentata ufficialmente al popolo grigiorosso e per l'occasione i giocatori indosseranno le nuove divise per la stagione 2013-2014, griffate a Cerbis. A seguire si terrà un match amichevole contro la Rivoltana, con pagine che milita in eccellenza che proprio in queste ore ha tesserato il 37enne ex attaccante della Cremo Gianluca Temelin. Farsi trovare subito pronti per l'esordio in campionato contro la Propatria è questo l'obiettivo di Vincenzo Torrente, che non concede soste ai suoi. Anche quella odierna è stata una giornata di duro lavoro per i grigiorossi, impegnati in una doppia seduta di allenamento. L'allenatore vuole che tutti gli elementi del gruppo raggiungano la miglior condizione entro il primo settembre. Proprio per questo mercoledì scorso, nel test contro il Fiorenzuola, ha fatto giocare coloro che avevano trovato meno spazio nei precedenti impegni. La squadra, che al mattino si era allenata sotto la pioggia, è apparsa un po' imballata. La prima frazione di gioco si è conclusa a reti inviolate. Poi, dopo l'intervallo, sono stati gli emiliani a passare con un gol di Fogliazza. La reazione della Cremonese si è concretizzata con una doppietta di Brighenti e la punizione vincente di Visconti per il 3-1 finale. Domani e domenica giornate di riposo. Lunedì si riprenderà a lavorare. Mercoledì, invece, è in programma un'altra amichevole nel pomeriggio contro la San Bonifacese, con pagine di Serie D, al centro sportivo Giovanni Arvedi, con calcio d'inizio alle ore 17. Domenica 25 agosto, come detto, la presentazione ufficiale della squadra è a seguire la sfida contro la Rivoltana. Le due partite saranno l'occasione giusta per vedere all'opera l'ultimo arrivato a Bate, ma anche Bergamelli e Armellino, arrivati a Cremona soltanto dopo il ritiro di Bressanone. Si tratta di tre elementi che Torrente deve inserire nel contesto del suo 4-3-3 il prima possibile. Intanto continua a far discutere la norma sull'età media riguardanti i campionati di prima e seconda divisione, che peraltro deve ancora essere votata dalle società. Una regola che sta rallentando anche il mercato di alcune squadre, tra queste la Pergolettese che da tempo sta corteggiando l'ex capitano grigiorosso Giovanni Fietta. Infine, oggi pomeriggio la Lega Pro ha fatto sapere che la sfida al Binoleffe cremonese valida per la terza giornata di campionato verrà anticipata a venerdì 13 settembre alle 20.45 e trasmessa in diretta di fronte a venerdì 13 settembre alle 20 secche.